Parliamo di un contest, quindi sostanzialmente di una sorta di competizione che apriamo a ragazzi giovani, quindi 18-29 anni, che possono, linkandosi sulla nostra piattaforma, la piattaforma messa a disposizione del CFMT, proporre un'idea per realizzare una customer experience totalmente innovativa dedicata al turismo giovanile. Quindi chiediamo ai giovani di dare delle idee, degli spunti nuovi per realizzare dei progetti che riguardino proprio il turismo per i giovani. Possiamo fare qualche esempio di quello che potrebbe essere un progetto compatibile? Progetti compatibili, lasciamo l'ampio spazio all'immaginazione dei ragazzi, quindi davvero chiediamo l'aiuto e il supporto dei ragazzi perché probabilmente proprio loro ci possono far uscire dagli schemi a cui siamo abituati come operatori adulti del settore. Come funziona? Cosa ci imparano? Dunque, è prevista che chi vuole partecipare si iscriva sulla piattaforma entro il 28 di febbraio. Viene presentato il progetto secondo il percorso che la piattaforma richiede. I progetti devono essere presentati entro il 29 di marzo, dopodiché ci sarà una giuria che è una giuria di grandi esperti perché partecipano al progetto sia manager Italia che Confcommercio, quindi nella giuria ci saranno operatori esperti del settore turismo, ristorazione e alberghi. Ci saranno selezionati dieci progetti che parteciperanno al contest finale a Roma a maggio e questi dieci progetti saranno presentati, verranno a tempo 5 minuti per essere presentati e fra questi dieci progetti verranno selezionati i tre migliori. Sono messi in paglio tre premi, 5.000, 3.000, 2.000 euro per il primo, il secondo e il terzo ma come nostra associazione, quindi Manager Italia Liguria, abbiamo deciso di istituire un premio speciale del valore di 3.000 euro per chi presenterà un progetto che avrà come riferimento proprio la regione Liguria. Oltre ai 3.000 euro messi a disposizione per realizzare l'idea, daremo anche supporto di nostri manager al giovane che presenterà l'idea per far passare l'idea e farla diventare una start-up vera e propria.